Bene ragazzi siamo qui con la remaster di Stronghold che va quindi a rappresentare un ulteriore miglioramento di Stronghold HD vecchio di più di 20 anni, il gioco originale non mi ricordo nemmeno di quant'è. Non ci ho mai giocato, forse ho giocato un pochino a Crusader però questo mi è scappato quindi vediamo un attimo cos'è, com'è questo old school con la nuova grafica. Vediamo cosa ci offre questa demo, con la missione più facile. Ok, dobbiamo costruire un avamposto al confine del territorio di Zucca de Cucca. Il duca Ratto De Puce Quindi è un figlio bastardo che è salito dal trono del duca perché è i dei putti. Ci sono tutti dispersi. Va bene. Puce un giro per incontrare il vostro castello, mio liege. Puce un giro per incontrare il vostro castello, mio liege. Puce un giro per incontrare il vostro granario, sire. Puce un giro per incontrare il vostro castello, sire. Puce un giro per incontrare il vostro castello, mio liege. Bene, adesso qualche stronzo. Allora, innanzi tutto scorrerà senza dubbio del legname, sire. Bene. Sire. A produrre delle... Abbiamo solo la fattoria per fare i cerbi. Ci serve una casa, subito. Stiamo facendo un po' di abitanti. Già mi è stato a rompere le balle. Ehm... Il legno sta calando. Vabbè, ne stiamo a fare qualche fattoria. C Cordellic��i. Ci è un po' di nuovo. Il mercato. An effetto... ... bene abbiamo finito il legnano allora un po' di mura 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 ci sono entrati da lì eh beh può capitare capita anche l'inglor ok ok hai bisogno di avere fatto l'arco o...? questo building ha no labor, sire i nostri scouts rappresentano un altro gruppo dei ratzmen andando in la nostra direzione siamo pronti per loro? direi proprio di nuovo me lo vuoi fare questo arco o...? a questo punto bisogna... un pazzo alto di questo quindi anche da una parte non mi ha bisogno l'arco è stato studiato a questa parte l'arco si è da lì la parte è piena l'arco la parte Beh, con il giro chiuderò il carocello, oppure no, visto che tanto non ho nessuno con cui difesa. Vediamo se si infila da qualche parte sto giro. Sì, sì, c'è un altro burro. Eeeh, vabbè. Sì, sì, sì. Sì, c'è un altro burro. Però non lo posso chiudere. Eh, è sfortunato. Sì, è sfortunato. Sì, è sfortunato. Sì, è sfortunato. Sì, è sfortunato. No taxes is one thing, but, um, what about a small gift? The people love you, my lord. Our granary stocks are growing, sire. Eh, vabbè, 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 vabbè. They've found us, sir. What are your orders? Would use a little extra food? My trousers are slipping. It's fine. Eh, non si può fare niente. ecco Non ci posso fare niente, se non mi producono, se non mi iniziano a produrre degli archi, Sì, un archi da un prodotto, incredibile. Allora, iniziamo un po' a chiudere con le mura, va. La mia popolarità, però ho bisogno di oro. Abbiamo bisogno di oro. Sì, non sono in grado di fare armi. Un'altra arcina, incredibile. Vediamo, sta prendendo forma. Ah, bello, bello, bello. Ok, posso. Sì, sì. Il bello è che adesso però dovranno fare tutto il giro attorno. Sì, sì. Stavolta siamo pronti, per la prima volta, per la prima volta in assoluto nella storia di questo gioco siamo pronti per affrontarmi. Perderemo un po' di... Dove sono questi cami? ... ... ... ... ... I'm going to get rid of your weird orders. Leave him, and now is full, my lord. Spare? Sorry. Ops. Ha fatto la porta al portale. E... Fortunato. A che punto lasciamo che lo distruggere? My boar is yours. The enemy are inside the castle. The castle is under attack. The castle is full, my lord. Move and off! We await orders! We are on our way! Leave him now! Move and off! We await orders! Yes? We are on our way! Dai, ma dove va sto troll? Distruggi sto gran... Sta porta che ha... Archeri, ready! My boy is yours! Leave him now! Move and off! Eh, siamo a porta del contratto. Che la ripara fa? Come si fa a distruggere? Come si può distruggere di chi? Instrucciones! We are on our way! Eh, vabbè. We await orders! Your popularity is rising! Fate se... A small group of the wrath soldiers are heading to the castle. Vai, tiratemi giusto a cazzo di porta per cortesia. Te l'ho fatta al contrario. No, 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 no! Oh. I think they're right. Instrucciones! We await orders! Weapons needed, sir. We await orders! Arrows! Ready! And... Yes? Leaving now! Moving off! We are on our way! My boy is yours! Notch! Arrows! No! 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 Non l'avevo visto! È giusto! Potrebbe costare caro! Qualche... Contadiene o sta moreno! All'altro stavano di avanti, ma... Meglio così. Prima! No! No! Ok! Finalmente riusciamo a fare una fortetta che non sia al contrario. Bene. Ho capito weapons needed, ma sti cacchi di Fletcher lo fanno un cavolo. Questa volta sembra che sia chiuso, eh? Sono lì, ci guardano. Stanno lì a prenderle. Va bene. Ma è possibile che questi cazzo non riescono a fare un'arma a pagare? No, no! Vanno a raidare le fattorie. Vanno a uccidere le mucche. Vanno a la città. Vanno a lavorare? Vanno a lavorare? Steadily sire Weapons needed sire My boy is yours Me lord Leaving now Good morning lordship Buongiorno lordship State le sue ultime parole Questa intanto se ne frega Lui è lì che sta muovendo Se ne sbaglia sta vero Se ne sbaglia sta vero Instruzione? Sì Se ne frega di lui La tua popolarità sta fallendo Buongiorno lordship Ah mi hanno distrutto tutte le fattorie Tutti proprio Buongiorno Buongiorno C'è tanta gente che lì che non fanno fai Ah Riuscite a fuggire Nel nostro soldato Steadily sire Abbiamo Siamo victoriosi sire Esatto di fare Una figura De me Con questo caso vittorioso Bene così Ottima prima esperienza con Stronghold Mi piace l'idea di dover costruire anche le armi Inoltre di poter armare gli abitanti Sicuramente divertente Una cosa da dire di questo gioco Ci sarà il multiplayer Quindi vediamo E se potrà dare nuova linfa a questa saga Fatemi sapere cosa ne pensate Se ci avete cercato ai suoi tempi Se aspettate questa remaster Noi ci vediamo come sempre Al prossimo Ciao 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 Ciao